Allora, buon pomeriggio ragazzi, undicesima puntata di questa seconda edizione di Giovani Bianconeri. Fresco fresco di rinnovo, arrivato oggi fino al 30 giugno 2026, parliamo di Gabriele Mulazzi. Classe 2003, ha iniziato a giocare a calcio a 5 anni in una società dilettantistica a settimo torinese. Passa poi alle giovanili del Torino, dove rimane per 3 anni, quando passa alla Juventus. E qui trascorre tutta la sua carriera giovanile, si fa tutte le categorie giovanili della Juventus. Il 23 settembre 2020 firma il suo primo contratto con la Juventus in scadenza nel 2023, che verrà rinnovato, appunto, stato rinnovato oggi. Il 2 aprile del 2021 viene convocato per la prima volta dalla Juventus Under-23, la Next Gen. insieme al compagno di squadra, Samuel Ealing Jr., che conosciamo abbastanza, per una partita contro l'Alessandria di Serie C. Nella scorsa stagione, trascorsa con l'Under-19, con la primavera, gli ordini di Mr. Bonatti, Mulazzi ha segnato 7 gol e fornito 8 assist in tutte le competizioni. Nonostante sia elencato come terzino destro, nonostante lui sia terzino destro, ha giocato 27 delle sue 36 partite stagionali come centrocampista, aiutando l'Under-19 a raggiungere le semifinali della UEFA Yacht League, miglior piazzamento di sempre nella competizione, come già detto più volte. Esordisce da professionista il 3 settembre scorso, vincendo 2-0 contro il Trento, giocando per la Next Gen. È da sempre cresciuto, inseguendo l'esempio di quei campioni che nel corso del tempo hanno scritto la storia bianconera. Uno dei suoi modelli è sicuramente Juan Quadrado, come lui stesso ha dichiarato in un'intervista. L'altro è Teo Hernandez. Seppur abbia appena 19 anni, il numero 14 della Next Gen ha già avuto modo di dare libero sfogo alle sue qualità. Velocità, dribbling, precisione, Mulazzi, grazie anche agli insegnamenti di Brambilla, sta facendo molto bene in Serie C e proprio per questo è rientrato dai giocatori chiamati da Nunziata, CT dell'Under-20. La fascia destra è diventata ormai il suo habitat naturale, come abbiamo visto prima, e le sue prestazioni in campo lo dimostrano. La dirigenza juventina ha rinnovato il suo contratto proprio oggi. In questa stagione ha all'attivo per il momento 15 presenze con la seconda squadra della Juve, 12 in C, 2 in Coppa Italia di Serie C condite da due assist e una presenza nella UEFA Yacht League. Per quanto riguarda invece le statistiche avanzate, si riferiscono al campionato Primavera 2021-2022. Ha giocato 1763 minuti con 6 contrasti, 2 assist, 595 passaggi totali, riusciti l'81,68%, 127 palle perse e 54 recuperate, 28 tiri di cui il 28,57% nello specchio della porta, 14 falli fatti e 33 subiti, quindi è uno che prende un sacco di randellate, una munizione e zero espulsioni, 143 duelli a terra vinti il 39,86% e 83 duelli aerei vinti il 39,53% di questi. È un giocatore che sicuramente avrà tanto da crescere, se la Juventus l'ha rinnovato oggi ovviamente punta molto su di lui, è un terzino destro e ovviamente noi sulle fasce non è che siamo messi proprio benissimo, quindi magari diventasse come qua un quadrato dei tempi buoni fino a quando insomma era un calciatore che si faceva 90 minuti tutta la fascia 3-4 anni fa, magari diventasse quel giocatore lì che punta l'uomo, comunque prova a mettere i cross anche da lontano, è un giocatore che comunque sui passaggi c'è. Il problema è appunto il tiro in porta che essendo un terzino non è proprio una grande caratteristica che deve avere, però insomma è una cosa che se ha è meglio, per quanto riguarda invece i duelli, chiaramente quelli per terra sono più importanti, essendo un terzino nell'uno contro uno contro le ali contro le punte deve essere bravo ad avere sempre la meglio e qui è un punto che deve migliorare perché ha poco meno del 40% di duelli vinti, è un numero un po' basso per un terzino e poi quegli aerei comunque sono molto importanti, sempre per un terzino destro, per un terzino comunque un difensore in generale e anche qui ha il 39,5%, 39,53%, quindi è una cosa che sicuramente dovrà migliorare l'uno contro uno a terra e insomma cercare sempre di avere la meglio anche su duelli aerei. Ha un sacco di falli subiti, questo vuol dire che tante volte magari si prende il fallo, qualche volta un po' più avanti sulla fascia, quindi è una cosa sicuramente a suo vantaggio per quanto riguarda in fase comunque sua di possesso e vabbè, insomma questo perde un sacco di palloni, questo è un altro dato che dovrà migliorare, 127 palloni persi lo scorso campionato, recuperate 54, quindi le palle perse sono più della metà di quelle recuperate, e questo sicuramente è un dato che dovrà un pochino controbilanciare e per il resto è un calciatore che, ecco, ripeto, se la Juve l'ha rinnovato vuol dire che ci conta, vuol dire che ci punta, deve migliorare un po' di cose però credo che anche lui debba avere, e io credo sicuramente l'avrà, visto che comunque è fresco fresco di norma, e la Juve l'ha blindato, credo che a meno che non decidano, ecco, di mandarlo in prestito magari a gennaio, se decidono di mandarlo in prestito st'estate, insomma vedremo quello che la Juventus farà con questo ragazzo, però credo che comunque prima di decidere se mandarlo in prestito, se tenerlo in Serie C con l'Under 23, o se tenerselo per magari farlo crescere a stile Miretti, o in Junior, vediamo, insomma, io credo che debba essere visto con la prima squadra, credo che debba essere visto direttamente sul campo da Massimiliano Allegri. Questo è il quanto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!